Ehi ragazzi, io sono Ferini Io sono Stef, e questo giochiamo a Baldi Spasics Sei pronta, Fere? No Si aspettava che sbagliassi il nome perché era due ore Che mi rompeva la dividine Baldi Spasics Perché lui provava a dirlo e diceva cose strane Quindi è giusto dire Oh, si è incartata lei Oh, signorina Baldi Spasics le crea un problema Allora Non mi fai alterare, volevo dire che questo è un gioco molto particolare Io volevo dire che questo gioco non andrebbe fatto Però ero curioso E' brutto Non è un bel gioco È un gioco orribile Però è bello perché è orribile Partiamo e capirete meglio Allora, start Ciao Welcome to my school Welcome, grazie Ok, allora La grafica è orribilante Il professore, è un professore, si Si Si, tecnicamente si Ok, è orribilante Leggiamo le regole Allora Non devi correre Giusto Non devi entrare nella facoltà Che vuol dire Che non ho idea Non devi mangiare Non devi bere Sembra una prigione Non devi scappare Non fort Ok 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 Porta numero 99 Si può entrare Ok Allora Lo scopo di questo gioco Da quello che so È riuscire a prendere I sette quaderni Del nostro compagno di classe Che si è dimenticato Qui a scuola Quindi noi siamo andati Per cercare di aiutarlo Certo E quindi come vedi Da lì 0 su 7 Dobbiamo prendere questi quaderni Ogni volta che Ne prendiamo uno Appare un indovinello E sta cantando Con cose strane Mi dispiace Mi dovrei dire Cosa fa Quando canta Allora 4 È molto felice 4 Però dai È tutto molto 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 semplice Per fortuna nostra Ok Grande Esisti Esisti Grazie Ok E adesso È un tipo di arte Questo Steph Di fatto Tutti che dicono È brutto È brutto Nessuno l'ha pensato Un gioco così carino Carino Si Carino Carino È bellino Ok Perché poi Se tu sbagli Più a piano Facciamo arrabbiare Baldi E chissà che succede Quando Baldi si arrabbia Buongiorno Ok Ah ci dà la moneta Come premio Grazie Penso che devi cliccare Steph Tasto destro È molto gentile Nel tasto sinistro Ok Chiudiamo la porta Che ogni volta Non voglio che Vabbè 5 Meno 6 Meno 1 1 Meno 7 Meno 6 Senti Questo è lui che cerca Di dire questi numeri La so io La faccia Diventerò più arrabbiato Per ogni risposta Che tu sbaglierai Sì ma È impossibile De indovinare Aspetta Lo senti Sta fischiatando Ah li senti sti suoni Cosa è Non lo so Prof Si sente fischiatando No No Non c'è bisogno Non c'è bisogno Ok Abbiamo già perso Non ve lo dire Che è sta roba Perso Quindi era lui che fischiettava E ci voleva pestare Sì Il discorso è Non dovevo sbagliare la risposta Secondo me La sbagli per forza Per forza di cose E poi devo scappare E poi devi scappare Sì 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 Ok Ok Qua facciamo un pochettino più veloce Che ho capito Pensavo fosse semplice come gioco No non lo è Evidentemente non lo è Evidentemente non lo è Ok vabbè Uno l'abbiamo fatto Poi Grazie per la moneta Ci prendiamo la nostra moneta Andiamo nella seconda aula E vediamo un po' E scappiamo da quella porta Hai visto Quella porta gialla Tu esce scappa lì subito Subito Quattordici Sedici Sedici E questa volta fa tre Perché tre è il numero perfetto Sentirò ogni porta che apri Ok scappa 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 Io lo sento eh Dall'altra parte Qui 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 Via 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Che rumori sono Non lo so Sta facendo voci distorte Molto strano Che sta succedendo Quere Ma che gioco stiamo giocando Ah che sono ste voci Chiudi la porta e vai via Steff non mi inter... Ok Ok Via 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 Come possiamo trovare gli altri quaderni con lui che ci segue come un pazzo Ok Ok che stanza è Ok È un bullo C'era il poster che ho scritto È un bullo Entrerà qua dentro secondo te? Eh può essere... Baldi Oh ma lì Ma lì era quando ero un bravo insegnante Oddio steff è via Che faccio? Non lo so Ci siamo incastrati? Ci abbiamo Ok Penso di averlo dribblato Anche io invece no È andato male Molto difficile Non trovi più neanche un quaderno dopo che fai la seconda Diceva di non entrare nella faculty room Che è questa E beh è tanto Penso che sia la sala degli insegnanti Capito? E dice anche di non mangiare Noi abbiamo appena mangiato Ok Appena mangiato Quindi stiamo infrangendo tutte le regole La lezione di oggi come mangiare formaggio Questo era quello che c'era scritto nella lavagna steff Aspetta Scusa se non leggo troppo Tranquillo Ok Credo che sia qualcosa per disorientarlo Ma dobbiamo trovare il modo di accenderlo Sicuramente Diceva anche di non uscire dalla detention Quindi dalla punizione Ti ricordi le regole? Sicuramente dobbiamo rispettarle No non possiamo Non rispettarla Ah non possiamo neanche Ok Ok Quindi ogni volta che infrangiamo una regola Veniamo messi in punizione Ok Allora Sento passi Molto vicini Steff Non per metterti ansia Però Infatti è lì dietro Sì Chiavi Per fortuna che è lento Che potremmo fare? È l'unica cosa positiva Maledetto Ma poi già se la prende male Cioè Che cavolo È ancora un'arrabbiata Cos'era quella? Ah un drink Che era quella roba? Probabilmente per allontanarlo Qualcosa del genere Vero? Mhm C'era una punizione nel corridoio Lei vi sta? E ora che faccia? Non lo so Cos'è l'alieno? Cos'è quella cosa? Occhio Un altro quaderno Allora 3-3 0 5-4 1 6 Ma non è possibile Sta roba Siamo a 3? Sì Ma Sì Adesso lui è ancora più arrabbiato Quindi chissà che combina Sto a posto Devo scrivere la punizione Ok Ci ha preso Ma quando? Quando ci ha presi? Quello è un bullo Steph Giusto Sto non lo sapendo E quindi ci darà fastidio? Che è sta roba? Mi ha fatto scendere un colpo Tu non è di quanto è alto Nelle cuffie Eh un po' l'ho sentito Tu non ce li hai Ma io ce li ho E lo sento Accidenti Ma che sono scemi Un po' Cioè mi sembra che dovete Fa sta roba E tu guardi il bullo Alla finestra tranquillo E ti fa stata Guarda roba Ok lo vedi? Sì Iniziano a partire 2.000 voci 5-9 Meno 4 14 Sì però Baldi Siccome sta diventando Anche più veloce Lo sai? Sì Perché dice che diventerà Sempre più arrabbiato Il problema è che Cavolo Baldi Cavolo se è veloce Steph Te l'ho detto Baldi non sei un brovo insegnante Ce li stai facendo sbagliare apposta Che è quella roba? È un calzino Se ne è andato Ok Ma che scuola è questa? Nooo A quanto eravamo arrivati? 4 di 7 Mi mancavano 3 3 È tanto 3 Sono troppe cose Capisci? Troppe cose a cui va a dare Cioè quel salto della corda Non fa Con lui che entra così veloce Non fa Certo Ci fermiamo Qua sotto altri video Lasciate un botto di like Se ci volete vedere Fini del gioco Ci proveremo È figo A me piace Mi ha divertito Sondaggio È qualcosa di strano Che alla fine ti piace Esatto Esatto Bisogna capire meglio Come muoverci nella scuola Per non farci fregare Però secondo me È fattibile In ogni caso Quindi qua sotto cose Iscrivetevi al canale Cliccate il campanello Noi ci fermiamo così Ciao ciao